Bedi di Notte è uno spettacolo sulle figure e leggende della cultura popolare siciliana. Consiste in una narrazione teatrale attraverso un gruppo di cinque attori, un musicista e un accompagnatore guida, avente per tema appunto alcune figure e storie della cosiddetta cultura popolare siciliana. Si presenta come un intreccio di racconti in prima e in terza persona, nella forma di monologhi e dialoghi, accompagnati da un tappeto musicale che funge da commento sonoro e sfondo evocativo alle parole. In alcuni momenti la parola diventa canto suggestivo, dolce, ma al contempo anche disturbante e inquietante. Donne e uomini taumaturghi e veggenti, forse streghe e stregoni, anche ciarlatani, spiriti femminili vaganti, tesori incantati, con un variegato repertorio di invocazioni e preghiere e proverbi, diventano la materia ancora viva della narrazione che si pone tra il reale e il fantastico, fra storia, mito e leggenda. È un sapere che richiama altri patrimoni culturali dei popoli del Mediterraneo, quello che ne risulta è un paesaggio di immagini che destra curiosità, che riesce ad incantare, che trasporta in un'atmosfera sognante condizione di un viaggio emotivo nei ricordi personali e non. Uno spettacolo da vivere a pieni sensi, un viaggio alla riscoperta di un'antica radice comune, di un passato ancora vivo nel presente di un'isola che è come un piccolo continente policromo. Venerdì 31 luglio alle 21 nel piazzale antistante al Parco archeologico della Forza Ex Macello, evento con posti limitati. Grazie. Grazie.